Nel 2020 i dati occupazionali ci dicono che i lavoratori nel nostro settore sono aumentati di circa 4.000 unità con un aumento anche percentuale interessante per quanto riguarda l'occupazione femminile che è aumentata del 20%. Un anno e mezzo di pandemia ha provocato un'altra emergenza occupazionale parallela a quella sanitaria. Interi settori produttivi in ginocchio, disoccupazione galoppante, prospettive di crisi non risolvibili in un orizzonte temporale di breve termine. E poi c'è un'eccezione, l'agricoltura, aumento di lavoratori italiani, in particolare di donne secondo dati Istat. Una controtendenza spiegabile attraverso diversi fattori. Si avvicinano a questo settore persone che purtroppo hanno magari perso occupazioni in altri settori ma è anche vero che ci sono comunque persone che indipendentemente da questo si sono avvicinate appunto al settore proprio perché non solo per un rinnovato bisogno di contatto con i contesti naturali ma perché è comunque riconosciuto come un settore trainante. Nell'analisi statistica incidono anche i cosiddetti lavoratori stagionali. Chiediamo la possibilità di reintrodurre ad esempio il voucher agricolo che è uno strumento di semplificazione importante per appunto un'attività stagionale destinata molto spesso non solo a persone pensionate ma soprattutto a studenti, a giovani che ancora stanno studiando ma che affascinati dal mondo agricolo possono svolgere già una prima attività esperienziale. Sulla bilancia dell'agricoltura pesa in negativo il piatto delle esportazioni. Impulso alla vaccinazione per la ripresa degli scambi commerciali, investimenti infrastrutturali, campagna promozionale e turistica, le richieste di Coldiretti. L'export dei nostri prodotti agroalimentari in questo anno così particolare abbiamo registrato un calo di circa 13 milioni di esportazioni del prodotto agroalimentare marchigiano che ha colpito soprattutto i settori come il vitivinicolo, l'olivicolo e l'ortofrutta lavorata e trasformata che rappresentano le punte di eccellenza per il nostro comparto. Grazie a tutti.